Non ho più aggettivi per questo giocatore, in quella zona è casa sua, sa quando arriva la palla, sa come calciare. Magra è da rivedere proprio, è il Sharawi che tiene palla. C'è già l'inserimento di Nainggolan, il controllo non ottimale di Silvestre, allora Nainggolan non si fa pregare due volte. Al volo, di destro, vola Pugioni, non arriva, è il primo gol in Coppa Italia di raggio a Nainggolan. Solo il cross intanto per Giacomo, con la richiesta di Silvestre. Poi il pallone allontanato per un attimo da Giuricic, è il Sharawi. Dentro per Giacomo, area di rigore, Giacomo! 2-0 Roma, due minuti esatti nella ripresa, il raddoppio. Tanti vede ben la porta, qua vediamo il recupero palla subito. È il Sharawi, Giacomo che parte in posizione regolare, si gira, conclude con il sinistro sull'uscita di Pugioni. E dopo aver segnato in campionato, 13 gol in Europa League 5. Mette il proprio timbro anche in Coppa Italia ed in Giacomo. Per il 2-0 della Roma, Tumbarella. Giacomo per il Sharawi che resiste, il Sharawi, prova il pallonetto! 3-0, serata di gol capolavoro. Pennellata una capolavoro di Stefano e il Sharawi. Al sedicesimo, 30 secondi prima, la Roma aveva rischiato il 2-1. Poi, che pallone di Giacomo! Che apertura di Giacomo! 40 metri! E il Sharawi che resiste! E poi il pallonetto! Fuori dai pali, Pugioni. Ci ha provato il portiere Sampdoriano, ha sfiorato soltanto. Roma 3, Sampdoria 0. Allora adesso i cambi! Eccoli qua i cambi! Esce Budimir! Palla, vedi che Nainggolan già vede che Perotti punta l'uomo, si porta verso dentro la rigore. La chiama! Posizione regolare di Nainggolan! La chiama, la chiama! Lui si butta tra i due difensori centrali, anticipa il portiere. 3 minuti di recupero che cominciano in questo momento. Ed è veramente una partita che alla fine si è rivelata fin troppo. Palla, vedi che Nainggolan già vede che Perotti punta l'uomo, si porta verso dentro la rigore. La chiama! Posizione regolare di Nainggolan! La chiama, la chiama! Lui si butta tra i due difensori centrali, anticipa il portiere. 3 minuti di recupero che cominciano in questo momento. Ed è veramente una partita che alla fine si è rivelata fin troppo.